Siamo con il mister Giampaolo Pascucce, l'antore del Riccione, oggi vittorioso per 3 a 0 in trasferta a Miglianico. Che partita è stata quella dei suoi ragazzi? Una partita molto di concentrazione e di voglia di fare il risultato, di lasciare quelli che abbiamo incontrato a Miglianico nella posizione in cui si trovano, quindi quello ci fa molto piacere. Una partita in grande determinazione è anche giocata molto bene. Se c'è qual è stata la chiave di volta determinante per la vittoria di oggi? La vittoria di oggi? Sì, infatti la squadra ha dimostrato carattere e non ha risentito per niente dello stop interno contro la Iesi. No, ma questo non avevo mai avuto nessun dubbio. Questi sono ragazzi che sanno veramente quello che vogliono, anche se delle volte ci sono delle difficoltà, ma non si tirano mai indietro, lo posso garantire. Adesso ci aspetta subito un'altra sfida difficile contro la Iesi in trasferta. Eh, difatti quello ci fa il tempo giusto di respirare un paio di giorni e poi di pensare subito alla prossima partita che sarà altrettanto difficile, ma questo lo sappiamo, siamo coscienti di questo e cercheremo sempre e comunque di centrare l'obiettivo finale, insomma quello che conta poi è quello, però speriamo di affrontarla bene, insomma, ci prepareremo bene senz'altro.